Allora sì, ancora panico? Panico? Paura? Questa volta per la maratonda qua? La maratona, tra l'altro, mi ha fatto pure parecchio ridere sto quesito quando l'ho letto perché è una maratona che sono iscritte 150 persone, di cui 98 sono uomini, 105 sono italiani, 119 sono biondi, dovranno trovare 119 biondi su 150 partecipanti d'Italia, boh! e 129 allenati, per cui gli altri non allenati sono destinati a morire. E vogliono sapere qual è il minimo di uomini italiani, biondi e allenati alla ricerca del maschio ariano. Chi l'ha organizzata sta maratona e soprattutto chi l'ha scritto sto quiz? Perché? Vabbè, comunque, capitolo alla ricerca del maschio ariano. Se fossimo i youtuber ariano adesso farei pure la sigletta. Comunque, a te interessa sapere, no? Tu hai un insieme di 150 persone e tu sai che un tot sono uomini, un tot sono biondi, un tot sono... io li faccio che si incrociano questi insiemi qua, e un tot sono allenati, un tot sono... A te interessa di sapere chi è che ha tutte queste caratteristiche sicuramente. Allora, siccome non v'è certezza nel farlo in questo modo qua, l'unico modo che tu hai per avere certezze è andare per esclusione, al contrario. Cioè, se tu devi vedere in i non uomini, perché noi crediamo nelle teorie di genere per cui non diamo per assunto che siano donne, i non uomini, i non italiani, i non biondi e non allenati, i reglietti, quelli come noi, insomma. Se questi quattro insiemi fossero completamente distinti, quanti ne potrebbero rimanere che sicuramente non hanno tutte queste caratteristiche? Perché quanti ne rimangono che hanno queste caratteristiche? È più facile dal punto di vista visuale. Se tu hai 150 corridori, vediamo i non uomini. I non uomini sono, allora, 150 meno i 98 uomini è uguale a 150 meno 98 fa 52, 52. 52 sono i non uomini. Noi calcoliamo adesso la peggiore delle ipotesi. Nella nostra peggiore delle ipotesi per gli organizzatori 52 persone se le so giocate perché non sono uomini. Per cui, niente, maschio ariano. Al limite, femmina ariana. Ma loro non vogliono la femmina ariana, loro vogliono il maschio ariano. Femmina, poi io sto subito dando per assunto, no? Che non maschio uguale femmina, sbagliato. Per cui. Adesso calcoliamo quindi che tutto qui, senza che si incroci, questi non si incrociano, e noi calcoliamo questi qui che sono quelli che non sono biondi. Non biondi. Quanti saranno i non biondi? Sono 150 meno i nostri 119 biondi uguale a 31 non biondi. 31 esclusi perché non sono biondi. Pensa che sfiga. Questi erano uomini, ma non sono biondi. Cioè, proprio il massimo della sfiga. E per andare, spingere sempre più in là le sfighe dei nostri poveri organizzatori di maratone alla ricerca della lazzariana, noi facciamo finta che... Ah, gli italiani, gli italiani. I non italiani. Questi sono i non italiani che sono venuti alla maratona proprio perché non hanno letto bene le scritte in piccolo del volantino. e quindi ho 150 meno i 105 italiani 45, ben 45 sono italiani. Questi erano uomini. Erano pure biondi e non sono italiani. Che ci siete venuti a fare? E nel nostro diagramma della sfiga andiamo a vedere l'ultimo insieme che sono i non allenati. Quelli che moriranno. I non allenati, noi sappiamo, 150 persone. Gli allenati erano 129. Tocco questa mano appesa da un sacco di tempo. 21 non allenati. Questo è il diagramma della sfiga massima. Cioè, questo è proprio l'incubo dell'organizzatore. Quello in cui ognuno non è adatto alla selezione della razza per un motivo diverso. Per cui abbiamo massimizzato la sfiga dell'organizzatore. Quanto sarà questo spazio qua? Occhio che potrebbe anche non esserci questo spazio qua. E adesso andiamo a fare due conti e lo vediamo. Perché noi sappiamo che sono 150 persone in totale a cui togliamo i non adeguati. I non adeguati sono 52 non uomini. I 31 non biondi. i 45 non italiani e i 21 non allenati. Questo qui 52 più 35 più 149 150 più 149 è uno che è bucio di culo che c'è avuto che era l'organizzatore della maratona ariana. Perché bucio di culo? Perché se uno di questi numeri fosse stato maggiore poteva proprio non esserci. Questo poteva venire un numero negativo. Cioè i nostri non biondi potevano essere invece che 31 potevano essere 51 intersecarsi con i non uomini con i non allenati poteva essere ancora più uno sfacello no? Chiaramente. Però fortunato il nostro organizzatore nella peggiore delle ipotesi in cui ogni gruppo di non che non avesse queste caratteristiche fosse distinto da un altro comunque ce n'è rimasto uno. Spero che sia chiaro la ah quindi la risposta è B B uguale 1 corretta. Spero che la spiegazione sia chiara andiamoci subito a iscrivere alla maratona perché non sono biondo non sono neanche allenato. sull'uomo c'ho qualche dubbio che cosa rimane italiano? Vabbè è quello c'è scritto sulla carta identità. Appellaci qui?